Sabato 27 ottobre in oltre 40 supermercati in tutta la provincia della Spezia e per la prima volta anche ad Aulla ritorna la raccolta alimentare a favore dell'emporio della solidarietà il supermercato che consente l'accesso gratuito a generi alimentari e altri beni di prima necessità per persone e famiglie in temporanea difficoltà economica residenti nella provincia della Spezia e da quest'anno anche in Lunigiana. Dislocato su due sedi una Spezia in via Gramsci e una Sarzana in via Castracani l'emporio è un servizio di Caritas diocesana della Spezia, Sarzana e Brugnato e gestito dalla cooperativa La Piccola Matita Onlus promosso e sostenuto dalla fondazione Carispezia dai distretti sociosanitari provinciali e dalla società della salute della Lunigiana. L'emporio costituisce un aiuto concreto per affrontare una situazione di crisi momentanea e consentire quindi al nucleo familiare di aumentare il proprio livello di autonomia attraverso la gestione di un budget di punti inserito in una tessera e la scelta quindi della spesa da fare. Sono già 921 le tessere attivate nel 2018 per un totale di circa 3.000 persone beneficiarie. Alla raccolta di sabato prenderanno parte 250 volontari oltre agli studenti degli istituti da Passano, Pacinotti della Spezia e Parentucelli di Sarzana e inoltre dopo il successo della prima edizione del contest grafico rivolto alle scuole superiori anche quest'anno le campagne di comunicazione sono state sviluppate dagli studenti spezzini. La campagna della raccolta di sabato infatti è stata creata dagli studenti dell'istituto alberghiero Casini della Spezia mentre per la raccolta di giugno era stata selezionata la campagna dell'istituto Einaudi Chiodo in premio materiale didattico multimediale offerto dalla fondazione.